Ciao a tutti, in questo video andremo a vedere come si comporta il Channel Manager quando si ricevono delle prenotazioni dai portali. Andremo a fare quindi una prenotazione di test da Booking.com per vedere appunto come il Channel Manager scarica la prenotazione e va ad aggiornare la disponibilità su tutti gli altri canali di vendita. Come potete vedere dai video precedenti andremo a fare una prova di prenotazione della nostra camera doppia che dal Channel Manager è stata collegata alla camera di Booking.com chiamata Premium Double Room. Quindi andiamo a simulare la prenotazione da Booking.com come se noi fossimo un cliente di Booking che sta cercando una struttura in una città precisa. Quindi selezioniamo delle date, facciamo tre notti dal 22 ottobre, controlliamo la disponibilità e andiamo a prenotare appunto come abbiamo detto la nostra Premium Double Room. Ok, completiamo la prenotazione, andiamo ad inserire le date di esempio. Ok, andiamo allo step successivo del pagamento. Selezioniamo la nazione, lasciamo Italia, inseriamo un numero di telefono in visorio e inseriamo una carta di credito di test. Ok, a questo punto completiamo la prenotazione e in questo momento Booking.com la trasmette ai nostri server centrali di 4G Connect che si occuperanno quindi di trasmettere la prenotazione al Channel Manager che di conseguenza andrà ad aggiornare tutte le disponibilità sul sito web e su tutti gli altri canali di vendita. Quindi, la prenotazione è stata confermata da Booking.com, andiamo a questo punto nel back-end per vedere cosa è successo. Allora, torniamo qui nella lista prenotazione di Booking e vediamo che abbiamo ricevuto la nostra prenotazione Alessio Test con i dati che ho appena inserito per la nostra camera Double Room Deluxe Proveniente da Booking.com, 3 notti dal 22 appunto al 25. La disponibilità sul sito web quindi è stata aggiornata, come vedete, potete vederlo anche dai video precedenti, adesso le notti del 22, 23 e 24 hanno una unità in meno. Controlliamo dal Channel Manager cosa è successo su tutti gli altri canali, torniamo ad aprire la pagina panoramica e utilizziamo di nuovo la funzione di Compare per vedere appunto qual è il risponso sulle disponibilità di tutti i canali di vendita. Come vedete appunto, le disponibilità della prima riga, della Double Room Deluxe, sono quelle del sito web, le righe sotto sono rispettivamente quelle di Booking.com ed Expedia e quindi abbiamo le date tutte aggiornate e tutte sincronizzate. Quindi il Channel Manager in tempo reale ha scaricato la prenotazione ed ha aggiornato tutti gli altri canali di vendita. Grazie a tutti!